Certo, come stanno facendo? Avevo promesso ieri un ragazzo forte che non siamo più collegati a dire non ricorda la posta di Smart che ha tirato giù la testa eh lo so è il 50 giugno sì io ribadisco che per cominciare aspetto un ok nello sapo magari che il problema non sia nel fatto che sì, stiamo risolvendo un problema tecnico questo è lo diciamo controllate che il problema non sia nel fatto che mi ha mangiato il volume del monitor brava voi funzionate, tutti funzionano e allora mi raccomando con il suo direttore di voi tutti signori e signori benvenuti al Cosplay Contest della settima edizione della Menzia Domix